Oggi diamo una rapidissima occhiata a quelle che sono le impostazioni di personalizzazione delle foto all'interno di Camera Raw. Diciamo che i controlli base sono gli stessi di Lightroom, consente di fare esattamente le stesse cose. Lightroom ha una gestione un pochettino agevolata, nel senso che consente un'archiviazione e una gestione in massa dei file che è molto più comoda. Però da qui possiamo fare le stesse identiche cose. In particolare una cosa che mi preme farvi vedere è che all'interno di Camera Raw abbiamo la possibilità di utilizzare i nostri predefiniti utente creati in Lightroom o importati da Lightroom. In questo caso io qui ho il mio Sharpening 2 che uso sempre, lo applico sulla foto e questo iconcina mi dice che è stato applicato un preset. La comodità è che io posso gestirmi dei piccoli batch di immagini all'interno di Camera Raw senza passare per forza da Lightroom. Questo lo posso fare se sono immagini che so già che cancellerò definitivamente subito dopo e non ho voglia di fare il passaggio di creare cartelle, per esempio. Una cosa che ci tenevo a farvi vedere è questa. La seconda è che io posso applicare delle modifiche. In questo caso per esempio porto un po' giù le luci per recuperare qualche dettaglio e porto un po' sulle ombre per tirare un pochettino fuori. Una volta che io ho fatto questa cosa su una delle mie immagini scattate nello stesso posto con le stesse impostazioni, io posso selezionarle tutte. Quello che vado a fare è o con il tasto destro sincronizza impostazioni oppure semplicemente Alt S, opzione S e quello che va a fare mi chiede quali impostazioni voglio utilizzare. In questo caso io attivo tutto perché le impostazioni sono le stesse, non faccio modifiche di nessun tipo se non quelle che vi ho già fatto vedere. Gli dico ok, compare l'iconcina e il mio predefinito utente e le mie modifiche sono applicate automaticamente a tutte le foto.